Quali sono gli alimenti più ricchi di zinco? Sappiamo che lo zinco è un minerale essenziale per il corpo umano. Abbiamo avuto modo di parlare in passato di come andarlo ad utilizzare sotto forma di integrazione. Andiamo a vedere in questo video qua quali sono gli alimenti più ricchi di zinco in modo tale che se una persona vuole andare ad ottimizzare i propri livelli attraverso solo l'alimentazione o attraverso una combinazione di alimentazione più integrazione, lo sappia fare nel modo migliore possibile. Ciao se sei nuovo qui il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale e sono una delle pochissime persone a parlare di allenamento, di alimentazione e di integrazione non per sentito dire perché qualcosa mi piaccia perché si sia sempre fatto così o peggio ancora perché abbia un conflitto di interessi come infatti puoi verificare qui sotto in descrizione e nei commenti non troverai codici sconto con nessun brand, non troverai promozioni o roba di questo tipo noi qui andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono e lo andiamo ad applicare nell'integrazione di tutti i giorni. Come ho detto nell'introduzione lo zinco è un minerale essenziale e abbiamo visto che è coinvolto in oltre 300 reazioni del corpo abbiamo visto per esempio il suo ruolo fondamentale in un'ottica di mantenere i livelli giusti in chiave testosterone come lo zinco sia legato agli enzimi affinché ci siano tantissime reazioni che avvengono all'interno del nostro corpo nell'espressione per esempio anche dei geni e come per esempio una carenza di zinco si ripercuota negativamente sugli organi, sulla pelle, sui capelli, sui muscoli, sulle ossa, sul sistema immunitario, sulla digestione, sul sistema nervoso, sull'umore e anche sull'apparato per esempio riproduttivo. Questi sono solo degli esempi, ce ne potremmo continuare qui potrei fare l'esempio infinito. e quindi abbiamo visto come possa essere importante andare ad integrare ci ho fatto un video solo su questo e ancora meglio andare ad abbinare eventualmente alimentazione o integrazione anche se in realtà una persona con la sola alimentazione fatta nel modo giusto come adesso lo andremo a vedere può già riuscire ad ottimizzare i livelli ricordandoci però che andare a prendere più zinco rispetto al necessario andiamo a parlare anche di cosa significa necessario sia in termini di alimentazione che di integrazione non va a portare più benefici quindi se i nostri livelli e la nostra alimentazione ci permettono di avere già i livelli giusti di zinco andando a prendere di più non ci darà benefici in più prima però di proseguire annuncio di servizio all'interno della mia guida chiamata la rivoluzione sull'integrazione che per chi non lo sapesse è una guida che fornisce tutte le istruzioni punto per punto mix di integratori quindi quali integratori andare ad utilizzare per qualsiasi obiettivo aumento di massa muscolare, salute, salute cardiovascolare, salute del pegato, salute della pelle, perdita di grasso, testosterone, libido uomo, donna, ventenne, quarantenne, sessantenne, integratori per lo studio, integratori per qualsiasi sport andiamo a parlare di ogni singola combinazione di integrazione per qualsiasi necessità provata scientificamente bene all'interno di questa guida sono andato ad aggiornare o meglio sono andato ad aggiungere un nuovo capitolo proprio su questa tematica che è uscita adesso quindi tutti i membri possono riscaricare la guida e troveranno già tutto pronto e per chi non lo sapesse all'interno di questa guida poi vado anche a fornire le mie analisi imparziali dei vari composti dei vari brand di integrazione e tutti i membri lo possono già fare uno zinco di qualità all'interno si trovano le mie analisi imparziali dei brand che rispettano le linee guida scientifiche tutti gli aggiornamenti di questa lista e della guida sono sempre gratuiti se vuoi smettere di acquistare gli integratori spazzatura che ti vengono promossi online ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti ora abbiamo visto che in campo alimentazione il fabbisogno giornaliero di zinco in linea generale oscilla fra gli 8 e 14 mg giornalieri abbiamo però visto che qualora si volesse andare ad utilizzare l'integrazione abbiamo diverse casistiche è bene ripeterlo in modo tale che uno poi eventualmente non si debba andare a rivedere i video vecchi in particolar modo abbiamo visto che una persona che non si possa andare a fare delle analisi del sangue regolarmente che magari non riesca a monitorare la propria alimentazione e quindi non sappia se sia carento oppure no possa andare ad assumere un quantitativo di zinco giornaliero zinco di qualità non zinco pessimo dai 5 ai 20 mg anche se poi chiaramente in caso di carenza ci possiamo spingere anche a dosaggi maggiori come per esempio 40-45 mg ma in quel caso bisogna andarlo a verificare se una persona non sa i propri livelli un buon quantitativo di mantenimento stando agli studi va dai 5 ai 20 mg quando ci ricordiamo che invece il fabbisogno giornaliero consigliato sempre dalle studie è dagli 8 ai 14 mg ora quali sono gli alimenti più ricchi in termini di zinco? prima fra tutte abbiamo le ostriche ora qui il dosaggio che si riesce a trovare online varia abbastanza ma comunque andiamo dai 75 ai 90 mg per 100 g di ostriche è un quantitativo enorme come si capisce è anche vero che riuscire a mangiare 100 g di ostriche è abbastanza ed è il motivo anche per cui circolano le voci sul fatto che le ostriche siano afrodisiache ma semplicemente perché contengono tanto zinco e se una persona chiaramente ha carenza di zinco andare ad avere giusti livelli di zinco può dare dei benefici in termini di testosterone e bla 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 e ci siamo compresi dopodiché abbiamo per esempio il fegato bovino che contiene 12 mg per ogni 100 g di prodotto abbiamo 9,5 mg per ogni 100 g di cioccolato fondente abbiamo visto anche come per esempio il cioccolato fondente nel video sul magnesio e sugli alimenti più ricchi di magnesio contenga anche diverso magnesio quindi eventualmente può essere un alimento da valutare per mantenere magnesio e zinco che sono due dei minerali più importanti su più o meno 7,5 g per 100 g abbiamo i semi di sesamo poi sempre più o meno sui 7 mg per ogni 100 g abbiamo la crusca di grano insieme anche ai funghi secchi e abbiamo visto per esempio anche come la crusca sia un alimento molto ricco di magnesio e quindi anche in questo caso è un qualcosa che possiamo andare a valutare per non essere carenti né di magnesio né di zinco poi più o meno sempre fra i 6,5 e i 7 mg per ogni 100 g abbiamo il muesli abbiamo il fegato di pollo abbiamo il manzo cotto abbiamo i pinoli poi invece sui 4 mg per ogni 100 g abbiamo sia le seppe che il parmigiano mentre sui 5 mg abbiamo il polpo sui 3,5 abbiamo i fagioli e sui 2,4 mg per ogni 100 g abbiamo il pollo ecco questi sicuramente sono gli alimenti che molto spesso si tende a preferire quando una persona comunque va a strutturare una propria alimentazione poi sicuramente ce ne sono altri questi diciamo sono quelli principali che ho selezionato ad andare ad aggiungere anche nel nuovo capitolo che dicevo all'interno della rivoluzione sull'integrazione chiaramente adesso fa le tue valutazioni assicurati di non essere carente e assicurati di inserire alcuni di questi alimenti all'interno della tua alimentazione vegana, vegetariana o onnivora che sia e cerchiamo di non essere più carente di zinco io ricordo che all'interno della rivoluzione sull'integrazione è uscito il nuovo capitolo proprio su questa tematica per chi non lo sapesse la rivoluzione sull'integrazione è la mia guida che ti fornisce tutte le informazioni su come andare ad utilizzare gli integratori per ogni necessità uomo, donna, natural, nonna, ventenne, quarantenne, sessantenne aumento di massa muscolare, perdita di grasso per tutti gli sport sport, ciclismo, running, salute, salute cardiovascolare in termini di erezione, della pelle, del fegato integratori per il colesterolo, per l'epatita abbiamo letteralmente tutto tutto in continuo aggiornamento e tutti gli aggiornamenti sono gratuiti tutti i membri della guida hanno il mio supporto e mail giornaliero per tutte le domande del caso e oltre a ciò poi c'è una lista in continuo aggiornamento così se vuoi del magnesio di qualità dello zinco di qualità e non ti vuoi affidare 4 scappate di casa che trovi online che ti consigliano la roba con il codice sconto all'interno trovi una lista in continuo aggiornamento senza conflitto di interessi è tutto analizzato e confermato dagli suscetti se vuoi smettere di buttare via soldi in integratori inutili ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione o nei commenti o ti ricordo che in alternativa ho due guide sull'alimentazione una chiamata ora basta di immagrimento scientifico pratico una sull'aumento di massa muscolare chiamato questa volta metto massa muscolare io entrambe le guide ti forniscono tutti i calcoli già fatti in termini di proteine, carboidrati, calorie e grassi e oltre a ciò ci sono decine di pagine di esempi pronte all'utilizzo che ti dicono proprio a pranzo mangia questo a colazione mangia questo tutto personalizzabile per i nivori vegani e vegetariani senza però bisogno di fare i calcoli ecco se non sai quanto mangiare cosa mangiare per la perdita di grasso per l'aumento di massa muscolare queste sono le guide giuste e anche quelle te le lascio giù in descrizione e nei commenti le puoi prendere in combinazione insieme alla guida sull'integrazione a un prezzo minore qualora avessi delle domande sui miei percorsi su come funzionassero se potessero fare per te scrivi ad Alessandro il mio assistente a questo email qua ho questo numero su qui è sempre disponibile per tutte le esigenze quindi iscrivetevi senza problemi e noi come sempre ci vediamo tutti i giorni all'una